Sono contento di essere venuto qua perché ho sempre avuto una grossa considerazione del Palermo, anche se sono stato avversario parecchie volte, però fa parte del lavoro. Per quanto riguarda il resto, adesso speriamo. È una situazione che in questo momento presenta delle difficoltà, ma secondo me è ancora affrontabile. Con la chiamata di Zamparini, anche considerato la situazione apparentemente difficile che c'era a livello di classifica, non me la sono sentita assolutamente di negare la mia collaborazione. Spero che questa collaborazione sia proficua e che sia anche utile alla squadra per poter raggiungere un obiettivo. Al di là del miglioramento nelle individualità, qui ci vuole un miglioramento alla ricerca proprio della compattezza. Perché secondo me adesso si decide, ora è fino a metà febbraio, si decide gran parte. Perché se riesci a fare due o tre risultati, prendi morale, ti avvicini un attimo, incominciano a sentire l'odore della prede. Quindi la squadra si gasa e la città poi sicuramente si avvicinerà ancora di più alla squadra, come lo è sempre stato negli anni, ma potrebbe essere un grandissimo obiettivo da raggiungere. Io spero che rimaniamo attaccati, quindi questo potrebbe essere sicuramente l'obiettivo primario. Io sono sempre stato abituato a avere acque non calme e quindi ho sempre lavorato il 99% di problematiche di tutti i tipi, insomma Catania, Cagliari stesso, insomma ci sono sempre stati momenti difficili, momenti di tensione, quindi questo fa parte anche un po' di queste realtà. Diciamo che io in questo momento mi sento uno che farà di tutto per cercare di metterla a posto questa situazione nell'ambito delle mie possibilità e qualità ovviamente, però allo stesso tempo credo che, ripeto, come ho detto prima, i margini ci sono perché poi la squadra non è che è proprio scarsa, insomma, ma la squadra ha delle qualità che secondo me potrebbe... Pensavo che la vittoria di Genova, quando ho visto questa vittoria, sono di quelle vittorie che magari ti danno la possibilità se gli dai la continuità subito la domenica dopo. Purtroppo quello non c'è stato e quindi è come se hai vanificato un'impresa. Ci vorrebbe subito un risultato positivo, magari inaspettato, e poi dare continuità e poi il resto viene da solo, secondo me. Con quello che ha detto il Presidente, che mi dicevi tu prima, cioè dobbiamo cercare di prendere anche dei giocatori pronti, dei giocatori che conoscono il campionato, la stessa cosa che ha detto lui, è cercando di dare un po' di personalità in più e un po' di sicurezza in più a questa squadra. Secondo me qualche giocatore di questo tipo ci vuole, che dia un po' di struttura in più e allo stesso tempo ci aiuti anche nello spogliatoio. Sì, sicuramente. Non c'è da parte mia l'attaccamento a delle cose venali, c'è anche una questione di affetto, anche di essere contento di arrivare in questa piazza. Quindi da parte mia darò tutto quello che ho nelle mie qualità e nelle mie possibilità.